E' mai possibile che dopo duemila anni di cristianesimo e dopo tanto progresso culturale e tecnologico si debba parlare ancora di omicidi? Dalle croniche di mass media apprendiamo che si compiono simili misfatti per futili motivi, per nulla, per uno screzzo delle macchine di due autisti, sempre impossibile. L'uomo rinuncia alla dignità di essere uomo per mettersi a livello della bestia feroce. Si rimane sconcertati di fronte a simili violenze e alla modalità di omicidio su commissione, gente che uccide per mestiere regolarmente retribuita anche se con pochi soldi. L'omicida priva la vittima del diritto di vivere, di compiere la missione affidategli da Dio, di espiare le proprie facoltà, di godere della famiglia e dei beni della terra. Dalla responsabilità delittuosa nella scagliarsi contro l'uomo non sono esenti gli stati. Possiamo accennare alle forme di tortura, alle varie soppressioni di fronte ai quali i metodi persecutori del mondo antico appaiono molto meno crudele. Non sono meno preoccupanti gli arsenali militari, dotati di armi sofisticate e sparsi in tutti i mondi. La triste realtà diventa raccapricciante se si pensa che si potrebbe sfamare l'intera nazione devolvendo a questo scopo gli stanziamenti e destinati agli armamenti. Gesù dal suo canto nel precetto evangelico di porgere l'altra guancia viete la torsione violenta per il male ricevuto. Nella Chiesa Cattolica però viene ricordato un altro elemento, viene puntualizzato un'altra situazione. La legittima difesa è un dovere grave per chi ha la responsabilità della vita altrui o del bene comune. Fin dal concepimento il bambino ha diritto alla vita. L'aborto diretto, cioè voluto come un fine o come un mezzo, è una pratica vergognosa, gravemente contraria alla legge morale. La Chiesa contanna con una pena canonica e discomunica questo delitto contro la vita umana. L'eutanasia volontaria, qualunque ne siano le forme e i motivi, costituisce un omicidio e, gravemente contraria alla dignità della persona umana e al rispetto del Dio vivente suo creatura. La lettera che Padre Pio scrive a Santo Padre dieci giorni prima della sua morte viene ispirata da due eventi molto importanti, il capitolo generale dei frati Cappuccini per l'aggiornamento delle Costituzioni e l'impegno molto serio e molto grave del rispetto della vita. E quindi Padre Pio, a nome del personale dei figli spirituali e dei gruppi di preghiera, si impegna con la preghiera e i sacrifici ad alleviare le sofferenze del Papa già molto provate da altri avvenimenti verificati durante e dopo il concilio. Padre Pio ringrazia il Papa per aver pronunziato una parola chiara sulla regolazione delle nascite. Egli specialmente per l'aborto non concediva assoluzione se non era certo di una autentica conversione. Cito soltanto un pensiero espresso al convegno dei gruppi di preghiera da una signora della Svizzera che istituisce un gruppo pilota per eliminare la piaga dell'aborto. Ricordo sempre con convulsione quando mi sono recato a Zurico per ricondurre a casa una ragazza già ricoverata all'ospedale per sottoporsi all'interruzione di gravidanza al quinto mese. Mi aveva telefonata disperata, pentita di aver ceduto alle pressioni della sua famiglia, che sollieva per ampe due durante quel viaggio di ritorno a Zurico. Quanto si aiuta a salvare una donna che si trova in difficoltà è sempre un momento di gioia perché si dà la vita ad un nascituro. Grazie a tutti.